Ciao Cristian, quali sono le vostre sfide di quest'anno come squadra? Beh sicuramente la sfida più grande per una squadra come nostra è quella di migliorarsi in continuazione, quella di poter affrontare tutte le partite a viso aperto e di arrivare fino in fondo col piglio giusto. Abbiamo un obiettivo, un obiettivo balasogno che è quello di poter strappare questo scudetto al recco che ormai è 14 o 15 anni che vince. Uno dei valori di United è il concetto di unirsi, quindi di unione. Cosa significa per voi come squadra e tu in quanto capitano cosa fai per trasmetterlo ai compagni? Beh sicuramente è una cosa fondamentale all'interno del nostro sport, all'interno della nostra squadra essere uniti perché da solo non vai in nessuna parte, è la squadra, il gruppo che migliora all'allenamento dopo allenamento e per essere dei vincenti hai bisogno anche del tuo compagno in squadra, quindi lavoriamo anche per questo. Io come capitano ci provo in continuazione, siamo un bel gruppo, proviamo a unirci anche fuori dall'acqua e poi penso che bisogna sempre trasmettere quella cosa di più in acqua ogni allenamento, far vedere che sei sempre presente e questo è uno stimolo anche in più per me perché quando poi la squadra gioca bene e vince e la squadra è felice sia nelle vittorie e nelle sconfitte, cioè felice, unita nelle vittorie e nelle sconfitte, questo è un gran lavoro che sto lavorando bene anche sotto questo punto di vista. Ciao Marco, cosa significa per voi il legame con United? Sicuramente con United è un grande passo avanti perché loro nel campo delle comunicazioni c'è sempre un motivo per evolversi e per continuare ad andare avanti, anche il nostro fatto che come atleta è quello di non porsi mai i limiti e di continuare ad andare avanti.